Ciao a tutti e benvenuti al primo video di una serie che ha lo scopo di dare una panoramica del programma, in questo caso è Cinema 4D, come potete vedere io sto utilizzando la versione 15, versione 15 studio, del programma. In questo primo video daremo un'occhiata all'interfaccia, giusto per dare così una panoramica di quello che vi appare la prima volta che fate partire il programma. Cominciando dunque dall'alto qui, possiamo vedere che c'è tutto l'elenco dei menu che mette a disposizione il programma, dove troviamo sostanzialmente tutti quei comandi e funzioni che ci permettono di gestire la scena che vogliamo creare, che va dalla creazione di un nuovo file fino alla documentazione di riferimento, con tutto quello che c'è in mezzo dalla creazione degli oggetti per la scena, la modifica degli oggetti e così via. Proseguendo abbiamo due palette, uno orizzontale e uno verticale, dove abbiamo gli accessi veloci di modifiche, creazione e gestione degli oggetti della scena, questo è quello orizzontale e questo è quello verticale. Qui a destra abbiamo questa finestra che è il manager degli oggetti, qui appariranno tutti gli oggetti che saranno presenti nella nostra scena. Qui al centro della nostra interfaccia abbiamo la parte principale del programma, che è praticamente quella che viene definita la viewport, dove prenderà vita la vostra scena che andrete a creare. Qui in basso a destra abbiamo quello che viene definito il manager degli attributi, qui vengono praticamente inseriti tutti quei parametri numerici degli strumenti e degli oggetti della scena. Vi faccio un esempio veloce. Questi sono gli attributi di un cubo, questo è un cubo che ho appena creato, qui ci saranno i suoi attributi, però se io cambio lo strumento e seleziono questo strumento che è lo strumento di selezione a pennello, ecco che vedete i attributi di quello strumento appaiono e qui mi dà la possibilità di modificarli. Qua in basso al centro abbiamo il manager delle coordinate che ci consente di dare degli attributi di posizione, scala e rotazione in maniera precisa dei nostri oggetti della scena. Nel caso abbiamo bisogno di avere un certo grado di precisione nella scena, per esempio costruendo una scena di un edificio. ok? Questa che abbiamo qui, scusate, questa che abbiamo qui sono due finestre che ci consentono di gestire l'animazione all'interno del programma, questa è quella che si chiama la timeline dove vengono presentati tutti i frame della nostra animazione e qui più in basso abbiamo invece la durata, la nostra animazione, i tasti di play e stop e di avanzamento e ritorno indietro nei frame, qui abbiamo i parametri che vengono registrati nei frame di animazione, vedremo poi tutte queste cose molto più avanti quando parleremo più in dettaglio di queste cose, adesso stiamo solo parlando dell'interfaccia e ultimo ma non meno importante abbiamo questa sessione qua che è il manager dei materiali che ci consente di sostanzialmente creare materiali da assegnare poi agli oggetti presenti nella scena, adesso per esempio facendo doppio clic quest'area grigia ho creato un materiale che viene chiamato semplicemente nuovo, facendo doppio clic su questa icona apparirà l'editor del materiale dove possiamo attraverso questi canali possiamo creare un'infinità di effetti, di colori, di trasparenze, di riflessioni eccetera, adesso per esempio creando un semplice colore verde, io lo assegno il mio cubo, ecco che il mio cubo ha preso questo colore verde, questa è un po' come dire l'interfaccia del programma, vediamo un po', qui in alto a destra abbiamo questo menu a tendina, ok, che ci mette a disposizione tutta una serie di interfacce predefinite sostanzialmente quella che vedete qui davanti è l'interfaccia standard, questa qua, che è in teoria quella che vi appare al primo video del programma, però il programma ve ne metto a disposizione delle altre che potrebbero essere, vi possono essere più comode, per esempio questa è l'interfaccia di animazione, vedete che l'impostazione del programma è praticamente cambiata, abbiamo delle nuove finestre e così via, altri parametri eccetera, abbiamo sempre il nostro manager degli oggetti, la nostra viewport, abbiamo questa nuova finestra qua che è la finestra della timeline, ok, qui verranno rappresentate tutte le curve di animazione della nostra scena, questo è un esempio però abbiamo anche il body paint, ok, questo ci consente praticamente di dipingere direttamente delle texture sul nostro modello tridimensionale, ok, quest'altra ci consente di creare le mappe UV di un modello tridimensionale, adesso vi sto solo facendo vedere quali sono le interfacce che vi mette a disposizione il programma, non voglio entrare nel dettaglio adesso, forse vedremo queste cose più avanti, l'interfaccia di avvio è praticamente identica all'interfaccia standard, poi c'è questa interfaccia di avvio utente che è la interfaccia di avvio che mi sono creato io e con cui mi trovo bene, infatti vedete questi insieme di strumenti che mi sono aggiunto all'interfaccia, vedremo tra un po' come farli, o come modificarli più che altro, abbiamo poi l'interfaccia di scultura, ok, il cinema 4D ci mette a disposizione una serie di strumenti dalla versione 14 mi sembra, ma non sono sicuro, potrei sbagliarmi ci consente di creare delle sculture tridimensionali, vedremo anche questo più avanti, abbiamo l'interfaccia standard come abbiamo visto fino adesso, abbiamo l'interfaccia Visualize che ci mette a disposizione tutta una serie, praticamente gli stessi, più o meno gli stessi strumenti, ok, però organizzati in modo diverso per creare, scusate, per creare la nostra scena, abbiamo funzioni generali, abbiamo ottimizzazione della geometria, rendering, illuminazione, animazione, creazione degli oggetti, probabilmente questo sarà il tab più utilizzato nel programma, io ho tutte queste interfacce qua, ne utilizzo sostanzialmente due, interfacce di avvio, che è questa dove ho a disposizione i miei strumenti di modifiche, creazione e gestione degli oggetti e eventualmente l'interfaccia standard per quando faccio delle piccole animazioni, animazioni ne faccio molto poche, io faccio più che altro modellazione, vediamo un attimo come modificare l'interfaccia allora io vado sulla mia interfaccia di avvio, utilizzo questa interfaccia come esempio, dunque per modificare l'interfaccia, per aggiungere e togliere questa serie di strumenti, ok, adesso io ho resi attivi facendo un comando che vedremo più avanti, per modificare dunque l'interfaccia clicchiamo in quest'area qui di fianco o qui di fianco, di solito lo faccio qui, comunque clicchiamo col tasto destro del mouse, verrà fuori questo menu, ok, e andremo a scegliere questa voce qua che dice modifica tavolozze, cosa succede? Sono successe sostanzialmente due cose, la prima è che le nostre icone dell'interfaccia hanno acquisito questo contorno blu, non so se riuscite a vederlo nel video, ok, questo significa che l'interfaccia è pronta per essere modificata, la seconda cosa che è successa è che si è aperta questa finestra che si chiama gestione dei comandi, dove qui avremmo a disposizione tutti, tutti quei comandi e funzioni all'interno del programma, abbiamo, io in genere faccio questo procedimento, io porto il cursore su questo campo di testo, ok, e andrò a scrivere il nome del comando che mi serve, ok, che comunque lo possiamo trovare all'interno di questi menu, ok, che ne so, io voglio aggiungere il comando centroasse e come avete visto mentre scrivo, ve lo rifaccio, centro, lo rifaccio di nuovo, mentre scrivo praticamente questo filtro va a cercare quello che scrivo in tutti i comandi che sono disponibili, centro, ok, il comando che mi serve sarà questo, ok, il terzo, centroasse puntini, cosa faccio? Io con il tasto sinistro del mouse clicco e trascino nella posizione che voglio, ok, adesso io per esempio lo voglio portare di fianco a questo strumento qui, ok, vado a riprendermi il mio comando centroasse, lo prendo, clicco e trascino e lo porto qui di fianco, vedete questa barra bianca che appare, questa qui è un'anteprima di posizionamento del comando, ok, per cui io lo porto qui e lascio andare il tasto sinistro del mouse e come potete vedere il comando adesso è di fianco a quest'altro, io però non voglio che sia così vicino, potete scegliere voi se tenerlo vicino eccetera, però io voglio un separatore, per cui qui abbiamo questo tasto qua che si chiama separatore icona e come ho fatto prima sarà una questione di cliccare e trascinare col tasto sinistro del mouse nella posizione, in questo caso io lo voglio mettere qui in mezzo tra questi due tasti, ok, lascio andare il tasto ed ecco che è apparso il mio separatore, adesso il mio tasto, il mio strumento che ho appena aggiunto è separato da quello di fianco, ok, e questo è il procedimento per aggiungere un comando alla mia interfaccia, proviamo anche, che ne so, aggiungerne un altro, adesso lo faccio per farvi fare un altro esempio, ok, che ne so, prendo centro oggetto A, per cui prendiamo questo comando qui, tasto sinistro, clicco e trascino nella posizione, ok, barra bianca per un'anteprima della posizione e lascio andare il tasto sinistro del mouse ed eccolo qua. Per invece rimuovere un comando dalla nostra interfaccia è sufficiente fare con la gestione dei comandi aperti e con la modifica della tavola osse, ok, è sufficiente fare doppio clic sul comando che voglio togliere, qui doppio clic e il comando sparisce, ok, stessa cosa vale per il separatore, mi porto col cursore in maniera precisa sul separatore, faccio doppio clic e il separatore scompare, però io voglio il mio separatore per cui lo riporto in posizione, ecco fatto. Per concludere le modifiche della tavola ossa è sufficiente per chiudere la gestione dei comandi, vedrete che il contorno blu attorno alla nostra interfaccia sparirà, io clicco la X rossa, ok, e come vedete il contorno blu è sparito. Posso salvare la mia interfaccia semplicemente andando nel menu finestre, interfaccia e c'è scritto salva interfaccia predefinita, oppure potete utilizzare il comando salva interfaccia come e dare un nome alla vostra interfaccia personalizzata, io in questo caso scelgo interfaccia predefinita. Da ora in avanti, quando richiamerò interfaccia di avvio utente, questa qua, quest'icona, questo comando che ho appena aggiunto, me lo ritroverò qui a disposizione insieme a tutti gli altri. Un'ultima cosa riguardo all'interfaccia, è possibile, se volete, spostare i vari manager rappresenta la vostra finestra, ok, semplicemente cliccando sinistro e trascinando la vostra finestra dove volete nella scena. Si utilizza questa piccola griglia, ok, quella che vedete qui, questa qua, tasto sinistro, clicco e trascino, anche in questo caso vedete questa anteprima della barra bianca, ok, che mi consente di scegliere dove posizionare, in questo caso, il manager degli oggetti, ok, e per esempio lo voglio mettere, non lo so, per esempio qua di fianco, ok, e come potete vedere il mio manager degli oggetti è apparso qua di fianco al manager degli attributi, ok, di nuovo griglia, ok, griglia di questi puntini grigi, tasto sinistro, clicco e trascino e lo vado a posizionare qua, ok, nel caso, adesso per esempio, l'ho spostato qui il manager degli oggetti, ok, nel caso la vostra interfaccia diventi troppo incasinata, ok, è sufficiente andare qui nel vostro menu layout e richiamare l'interfaccia che volete e come vedete ritorna a quella di partenza. questa era un po' una panoramica molto generale dell'interfaccia del programma, vedremo poi più avanti più in dettaglio le varie funzioni del programma, ok, spero che venga fuori un progetto fatto bene, per questa serie di filmati video che spero i principianti riescano a capire un po' come funziona questo programma, per cui vi ringrazio tutti e alla prossima, grazie.